il natale ve lo dico io cos'è il natale il natale non è altro che un giorno in meno per lavorare e un giorno in più per buttar via dei soldi tutti a dire buon natale buon natale e un anno dopo saranno tutti più vecchi e più poveri di un anno il natale bubole bubole bubole